amici bentornati sul mio canale si ricomincia dopo un periodo invernale dedicato ad altre attività tipicamente invernali a parlare più intensamente di pesca qualche editoriale poi torniamo a parlare veramente di pesca ma ci tengo a rientrare su un argomento che abbiamo trattato già varie volte ovvero i famosi famigerati libretti delle catture perché proprio oggi ricevo un video che dopo metterò da parte di una guida professionista di pesca in grande difficoltà a causa delle inefficienze delle assurdità che nascono da certe scelte in questo caso della regione lazio faccio un piccolo passo indietro nel legge regionale numero 87 90 nel 2019 introduce l'uso del libretto l'obbligo del libretto delle catture a scopo di monitorare quelle che sono le catture nell'acqua interna forse non considerando il fatto che la gran parte dei pescatori rilascia completamente pescata e quindi in certi casi è completamente inutile è vero esiste una percentuale anche di pescatori che trattiene ma estremamente risibile e si sta riducendo drasticamente al di là di questo si trattava di un libretto cartaceo delle dimensioni di un quaderno o poco meno molto scomodo da portare nel quale bisognava riportare tutti i dati all'interno della zona di pesca degli orari eccetera eccetera in assenza di questo c'era il rischio di prendere delle multe ci sono dei pescatori che hanno preso delle multe perché si è arrivati all'assoluto controsenso che il libretto che completamente gratuito anche se c'è stato un business da parte di alcuni negozianti che si facevano pagare per andarlo a ritirare anche in modo abbastanza oneroso e dicevo in mancanza di questo c'è stato un grosso equivoco per cui in assenza di libretto si veniva multati e spesso non veniva minimamente controllato se in realtà era stata pagata la tassa regionale ovvero quello che sostituisce la licenza di pesca quindi il mondo veramente al contrario come direbbe qualcuno il l'articolo 6 del regolamento del 2019 prevedeva anche prevede anche la riconsegna e del libretto entro determinati termini in assenza dei quali in essenza della riconsegna vi è la multa quindi montagne di libretti in certi uffici molti pescatori sono tra cui lo stesso sottoscritto si sono rifiutati di andarlo a riportare perché e dopo vi farò vedere il perché semplicemente mostrando la mappa nel viaggio che io dovrei affrontare per andare a ritirare e poi riportare il libretto completamente inutile perché io non effetto alcun tipo di non trattengo le imprende come molti effettua calciano disintegrare e come potete vedere da questa semplice mappa nel mio caso ma ci sono dei casi assolutamente peggiori si tratta di un'ora e dieci di automobile dal mio quartiere a raggiungere l'ufficio dell'agricoltura della regione è stato intelligentemente io credo presa in considerazione nel novembre 2023 attraverso un un consiglio regionale la possibilità di una proroga perché si sono desi conto che gli spostamenti richiesti agli appassionati di pesca erano veramente imponenti creavano grandi difficoltà soprattutto per chi svolge la guida di pesca come attività professionale era costretto a fare su e giù e quindi è stata creata una proroga e leggo testualmente questa proroga necessario prevedere una proroga alla luce del fatto che il prossimo libretto di pesca che dovrebbe essere disponibile nei primi mesi 2024 siamo praticamente arrivati ad aprile ricorrerà alle tecnologie digitali un'app la cosa più banale del mondo sono voluti cinque anni dal 2019 ad oggi per parlare di app nel frattempo questa proroga che è stata pubblicata nel bollettino ufficiale della regione lazio prevede che coloro che sono in possesso di un libretto degli anni 2021 2022 2022 2023 lo possano utilizzare fino a completamento speravamo quindi che venisse fuori un un app in realtà guardate un po che cosa è saltato fuori vi faccio vedere questo filmato che mi è arrivato da un persona molto seria e praticamente in assenza dei libretti perché erano finiti libretti hanno continuato a spendere soldi anziché abolire questo questo obrobrio stampando dei libretti che sono altrettanto inutili perché perché fondamentalmente hanno soltanto 15 uscite di pesca disposizione e alla domanda fatta da questo mio amico all'addetto ma come mai soltanto 15 sono troppo poche e quanto ci metterete a fare 15 uscite per una guida di pesca gli ha risposto 15 20 giorni vuol dire che ogni 15 20 giorni la guida di pesca deve prendere e andare a ritirare dei libretti capite bene che ho qualche cosa di improponibile è vero molti pescatori non fanno 15 uscite di pesca in un anno ma ci sono dei professionisti che queste 15 uscite di pesca le fanno in 15 giorni perché il loro lavoro e quindi non si possono penalizzare i lavoratori che sono in possesso di partita iva che hanno fatto un corso il corso professionale guida di pesca eccetera eccetera per una scelta così limitante e così poco intelligente va detto noi aspettiamo con ansia che arrivi questa app perché come pescatori del lazio cominciamo a essere anche abbastanza stanchi nel senso che si deve continuare a subire controlli laddove ci sono in cui appunto viene chiesto il libretto delle catture e non magari il versamento che è l'unico atto amministrativo realmente con un senso la famosa licenza di pesca e allora io mi auguro che questo libretto delle catture sia un qualcosa di estremamente temporaneo che effettivamente nei prossime settimane salti fuori questa app fermo restando che ci sono dei problemi molto più seri da affrontare che riguarda la tutela il controllo delle acque le emissioni regionali in tal senso autorizzato l'emissione trovate l'idea ma stiamo vedendo che molti sono riluttanti a effettuare queste operazioni probabilmente per paura di correre in sacchi chissà che cosa avremo bisogno di più acque controllate di più acque gestite gestite bene devo dire e non gestite male io dicevo che questo nuovo libretto delle catture possibilmente in versione digitale anzi certamente dovrà essere in versione digitale esca quanto prima e se è disponibile quanto prima perché i pescatori sportivi del lazio hanno assolutamente il diritto ad avere la possibilità di andare a pesca quanto vogliono e non sulla scelta di un burocrate e soprattutto non essere costretti a spostarsi per un'ora 50 minuti o anche soltanto per dieci minuti e interrompere il proprio lavoro le proprie attività per andare a ritirare un pezzo di carta che è completamente inutile che non verrà mai censito da nessuno e che rappresenta solo ed esclusivamente una spesa per la regione stessa perché i libretti devono essere stampati e quindi devono essere pagati tutto questo vi invito a iscrivervi al mio canale il target 20.000 sta arrivando abbastanza velocemente le settimane scorse sono state veramente fantastiche grazie di cuore e se avete delle problematiche da sottopormi di cui parlare da condividere tra tutti quanti lo farò molto volentieri sono a vostra disposizione per il poco che posso fare non pensiate che io possa fare nient'altro che lamentare o esprimere o cercare di pubblicizzare determinate tematiche e i problemi vanno risolti in altra sede vanno risolti con la federazione possibilmente vanno risolte a livello istituzionale io sono un semplice cittadino come tutti gli altri vorrei poter fare vorrei vorrei ma al momento non posso detto questo vi saluto un caro saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao